Il Lanciano fa suo l'incontro con il Giulianova in un pomeriggio insolitamente nebbioso, ancora senza tifosi sugli spasti, riesce ad aver ragione di un Giulianova Zeppo di Giovani. Le immagini abilmente montate da Claudio Senerchia partono con il dettaglio dal minuto 11, azione insistita da parte di Persiani nel Giulianova che grazie ad un rimpallo riesce ad andare al tiro che sfiora il palo. Poi in cattedra salgono i rossoneri che prendono campo al diciassettesimo, Ray si accentra e mira la porta imbarazzando un po' Bocca Nera a cui scivola la palla in angolo. Dagli sviluppi Scipioni di testa centrale stavolta para l'estremo giallorosso. Due minuti dopo Bocchia si sostituisce a Ray sulla corsia di destra, Crea basso arretrato al centro dove Iuseni controlla e buca tra le gambe Bocca Nera. 1-0 La replica giallorossa è tutta su Sissè. Al ventunesimo reclama un rigore parso ai più come tali per un contatto in area con Scipioni. Poco dopo anche il gol di testa ma in posizione di offside. Il lanciano si affida a Ray sugli scudi e il numero 7 per Bocchio che va al tiro sicuro deviato in corner da Rinaldi. Al trentaquattresimo Sissè si mette in proprio fa tutto bene tranne il sinistro da dimenticare. E' primo tempo che si chiude con il vantaggio locale Giulianova che recrimina sul possibile calcio di rigore. Nella ripresa al quarto minuto Parapiglia ne fa le spese. Prima buona voglia e Ray ma l'eccesso di protesta del sette giallorosso inducono l'arbitro a buttarlo fuori dalla contesa Giulianova in dieci. Al sedicesimo Lanciano vicinissimo raddoppio Bocchio riceve nel cuore dell'area ed è necessario un miracolo di Bocca Nera a negare la gioia. Il Giulianova prova con i cambi e proprio Barlafante al ventisesimo che riceve in area posizione laterale il suo sinistro a botta sicura rimpallato in angolo. Nel finale Ray sull'esterno della rete al trentaseesimo poi la girata di Sissè fuori dallo specchio al quarantaseiesimo ed in pieno recupero la smanacciata di Boccarea su Ray. E' la successiva semi rovesciati di Mariano oltre la traversa ma il risultato non cambia. Alla fine il Lanciano si aggiudica l'incontro. Mister avete bissato il successo di domenica in primo tempo all'arrembaggio secondo tempo di controllo. Ma sinceramente oggi vorrei parlare poco della partita perché ho subito ieri un lutto familiare. Non è proprio famiglia ma è come se eravamo fratelli. Purtroppo è venuto a mancare Ennio Pellegrini, mio storico presidente dello Sporting. E questa vittoria è tutta dedicata a lui. Abbiamo passato 5-6 anni insieme e penso che sia giusto e doveroso dirgli questa vittoria. Per quanto riguarda il discorso della partita, sì. Diciamo che abbiamo fatto un gran primo tempo. Nel secondo tempo siamo un po' calati fisicamente ma purtroppo questo è un percorso diverso rispetto a prima. che bisogna lavorare di più, ci sono troppe partite infrasettimali quindi non abbiamo tempo di lavorare. È soltanto uno scarico e poi una rifinitura e questo un po' ci penalizza. Adesso ecco, l'unica cosa è riposare, goderci questa vittoria, goderci i tifosi che malgrado lo stadio ancora chiuso... Erano fuori ad incitarvi? Erano fuori ad incitarci e siamo usciti, abbiamo festeggiato con loro. Mister, emergenza nell'emergenza, anche nel pre-partite si è infortunato le noci, poi gara che è stata un po' storta. Ma comunque con 8-under non si poteva fare di più. Io, ripeto, sono abbastanza contento per la partita fatta qua. Non è una partita facile, lo sapevamo, è un campo pure in erba non curato, quindi non è semplice. Soprattutto per noi che vogliamo o vorremmo provare a giocare palla, quindi lo sapevamo. Sono successe in questa settimana diverse cose, diverse defazioni che ci hanno tolto, alcuni giocatori importanti. Però tutto sommato io ho visto una squadra viva, una squadra che ha prodotto calcio pure in 10, che ha cercato di fare la partita, ha cercato di reagire, ha creato pure un'occasione importante, se non 2 su 10 contro 11, poi il calcio ci sta pure, che loro sono pure bravi, una squadra esperta, una squadra ben messa in campo, ma poi pure fisicamente pronta, insomma.